Ciao, mi chiamo Laura Izenai, sono l'apprendista del primo anno e attualmente sto lavorando in agenzia Manno. Lui è Mattia Belli, apprendista del secondo anno, mentre lei è Stefania Camozzi, apprendista del secondo anno. Ho scelto il CSS perché offre buone possibilità di lavoro. Inoltre ero presente alla giornata informativa, durante la quale ho avuto una buona impressione. Bisogna essere intraprendenti, organizzati e precisi. Personalmente quello che preferisco è l'agenzia, in quanto mi permette di avere contatto con i clienti e di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. Dopo i tre anni di apprendistato, mi piacerebbe andare all'estero ad imparare nuove lingue e fare nuove esperienze. Questo è il nostro lavoro giornaliero presso il CSS. Grazie mille per la visione. Ciao a tutti!